E bentornati a tutti nel mio canale, io sono Vieri e oggi siamo qui per vedere la mia top 10 classi di Warzone per quanto riguarda Verdansk ovviamente. Ci saranno un po' di novità, ci sono un po' di novità soprattutto per quanto riguarda i perk, due armi nuove inserite all'interno del gioco e già conoscete che sono EM2 e TEC9. Andremo a vedere i migliori loadout e quali sono le classi che vi consiglio principalmente per le vostre partite su Verdansk per andare a vincere più facilmente le vostre partite su Warzone. Andiamo a vedere la prima classe dove abbiamo il Krieg e il Bulfro. Il Krieg e Bulfro penso sia due delle armi meta più facili da usare, più semplici in assoluto e il Krieg è quel giusto compromesso tra tanto danno e facilità d'uso. Nella classe ho messo la Militare CMV, di solito vi consiglio la Liberator perché soprattutto da pad è sicuramente la canna migliore soprattutto per chi gioca da console. Anche la Ranger invece vi dà un pochino più di velocità in entrata in mira, per il resto è veramente veramente valida anche la Ranger quindi alternate le due, vedete quale tra le due vi trovate meglio. Sicuramente la Militare è un po' più lenta però avete un controllo di rinculo sicuramente migliore rispetto alla Ranger. Come secondaria andiamo appunto a utilizzare invece il Bullfrog, classico set, suppressore, task force, tagger team, questo è tutto per quanto riguarda mobilità, è una classe assolutamente quella del Bullfrog per la mobilità. Stupenda come classe, tantissimi colpi, ha già nel caricatore 50 colpi, non c'è bisogno di raggiungercene altri ed è un'arma veramente efficace dalle corte distanze con tanta mobilità. Come perk andiamo a vedere perché ci sono delle novità, classico io di solito metto sempre artificiere oppure di corsa ma adesso inizia ad avere un senso sangue freddo perché è stato aggiunto in ricognizione da battaglia come terzo perk. Però sangue freddo diciamo lo annulla completamente quindi è ottimo come perk. Come secondo perk usiamo sempre risposta eccessiva e dopo andiamo sul secondo loadout a scegliere tra i soliti rifornimento, fantasma oppure massima allerta che adesso ha ancora più senso perché puoi sentire i passi dei giocatori che usano silenzio di tomba e tempra che è uno dei nuovi perk che praticamente avrete anziché le classiche tre piastre ne avete due da 75 di vita l'una contro le classiche 50 quindi di norma sarebbe 50 50 50 50 quindi 3 da 50 queste ne avrete 2 da 75. Come terzo perk invece abbiamo la solita scelta tra amplificato e invece il nuovo perk che è ricognizione da battaglia, ricognizione da battaglia si consia molto su gli assalti con tanta portata perché danneggiando un nemico questo viene brevemente evidenziato per te quindi praticamente viene marchiato come se l'avesse pingato come una granata localizzante e marcato quindi pingato con un ping grosso come se fosse il drone da ricognizione per i compagni invece di squadra. Quindi questo è un perk molto molto utile per gli assalti da lunga distanza non lo consiglio su cecchini o altro solo esclusivamente su se usate magari mitraglioni pesanti oppure un assalto con tante caricature. Andiamo a vedere le letali e tattiche di solito sono sempre le stesse semtex termite col tenero al lancio per confermare velocemente i nemici e c4 non è niente male come tattica invece andiamo a utilizzare la granata stordente oppure il sensore di battito cardiaco. Spesso vedo utilizzare anche la granata localizzante che è molto comoda accoppiata a ricognizione da battaglia con i mitraglioni perché praticamente potete sparare letteralmente wallbang e avere una sorta di wallhack con questa combo tra granata localizzante e ricognitore da battaglia. Andiamo avanti con la seconda classe dove abbiamo le M2 e la Tech 9 le due 9 armi uscite che non ho ancora utilizzato molto però vedo che le M2 è molto molto utilizzato perché ha un danno veramente altissimo. Time to kill più bassi assolutamente nel gioco e ve lo consiglio tantissimo fa veramente un danno pauroso sembra che veramente sciolga nemici l'unica cosa un po' difficile da usare soprattutto da console col pad farete piuttosto fatica rispetto magari a pc con un mouse testiere oppure col pad anche da pc perché ovviamente il rinculo sembra molto superiore di su da console rispetto a da pc. Come secondaria invece andiamo a usare il Tech il Tech che non è una gran che come arma però questo è il miglior set se la volete utilizzare se la volete provare non ve la consiglio più di tanto ci sono mitragliette molto molto superiori però ovviamente andiamo a metterci questo set per avere la miglior classe anche per quest'arma qua. Come terza classe invece siamo andato a scegliere lo Swiss insieme a il miglior supporto per i cecchini che è l'XM4 questa è la mia classe preferita per l'XM4 possiamo cambiarla togliendo magari ad esempio il riflettore Tiger Team e aggiungendo la canna range per avere una maggiore velocità di proiettili quindi un maggiore time to kill anche controllo rinculo verticale di modo tale da appunto avere più danno e ovviamente perdendo un po' di mobilità che dà appunto il riflettore Tiger Team. Come secondaria lo Swiss invece miglior cecchino in assoluto attualmente da usare all'interno del gioco secondo me perché ha il più danno rispetto al car ed è velocissimo questo è il mio set preferito potete andare a togliere il moderatore sonoro per mettere sopra sopra il gruppo per avere una maggiore portata oppure togliere il calcio rimosso per aggiungere invece il sottocanna Bruiser soprattutto per chi a differenza mia non gioca un scatto tattivo automatico. L'impugnatura Bruiser è molto comoda perché ha velocità di movimento e anche stabilità di puntamento mentre calcio rimosso per chi ha spin tattico automatico quindi a corsa tattica automatica vi consiglio assolutamente la transizione scattafuoco con calcio rimosso assolutamente. Come terza classe andiamo invece a vedere il C58 qui ho messo anche sangue freddo con l'MP5 C58 che è rimasta un'ottima arma sicuramente ci sono un paio di assalti migliori come ad esempio il Krieg e come ad esempio l'M sono comunque un ottimo assalto facile da usare vi consiglio il solito set non è cambiato niente. Come secondaria invece abbiamo usato l'MP5 di Cold War che è una delle mie SMC sempre migliori all'interno del gioco già da diversi mesi solito set mio personale personalmente penso sia il migliore vi consiglio assolutamente di usarla una delle più divertenti più veloci con più colpi SMC da usare. Ovviamente qua uso ricognitore da battaglia perché col C58 ricognitore da battaglia è veramente veramente forte andiamo a vedere invece la classe difficile da usare dove abbiamo l'OTS e il Groza. Groza che è un ottimo assalto ha un bellissimo time to kill un ottimo time to kill non il più basso del gioco un po' più difficile da usare rispetto a altre armi comunque un assalto che da lunga distanza fa veramente il pane fa tantissimi danni. L'OTS invece questo è il mio set da corta distanza quasi totalmente full mobilità potete pensare di togliere il calcio rimosso per mettere magari uno spezzas per rendere difficile da vita agli avversari quando siete da corta distanza e vi vedete mentre state mirando. Comunque uno di questi due calci assolutamente rende l'arma da corta distanza infallibile veramente fortissima penso non ci sia mitragliette con time to kill più basso se non mi ricordo male del gioco. Spesso vedo utilizzare anche il caricatore rapido che ovviamente vi fa perdere un po' di velocità di entrate in mira però è molto 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 valido in realtà come scelta anche questa ovviamente perderete un po' di entrate in mira. Andiamo a vedere la classe col carletto dove abbiamo il far un set da corta media distanza sulle lunghe fate veramente fatica perché ha un grossissimo rinculo comunque la classe è veramente molto valida divertente da usare il far è bellissimo è sempre veramente bello da usare sempre divertente da usare e mi fa mi fa sempre impazzire. Andiamo a vedere invece il carlettone carlettone classico questa è la mia classe preferita con per chi usa appunto scatto tattico automatico vi consiglio di togliere la fettuccia per impugnatura e andare a sostituire con la f-tax sport se invece giocate senza scatto tattico automatico se invece siete un po' scarsi con il cecchino e volete avere più precisione siete ancora diciamo fortissimi vi consiglio invece lo swall che è ottimo un'ottima scelta sempre a posto della fettuccia per impugnatura. Andiamo a vedere la classe invece col pump quindi abbiamo finalmente una classe con un fucile a pompa dove abbiamo il fara che è sempre un ottimo assalto sempre sotto agli altri attualmente secondo me comunque questa è la classica build del fara che stiamo usando da diversi mesi. Come secondaria appunto invece andiamo a vedere lo spasso un po' particolare perché la struttura agency è forzata pesante il riflettore tiger team che vi permette di avere un sacco di mobilità potete anche sostituirlo con il puntatore laser swat che invece vi dà la precisione di senza mirare eventualmente o il puntatore amber che vi dà anche portata danno quindi secondo me è ancora meglio il puntatore amber. Però il tiger team vi permette di avere una mobilità maggiore come calcio andiamo a utilizzare un calcio al combattimento però in realtà qua c'è poca differenza calcio al combattimento soprattutto se avete l'abitudine anche di mirare con lo spasso perché comunque ha molto senso in realtà entrare in mira con lo spasso perché da corta distanza farete letteralmente buchi da all'interno di un edificio dominate sicuramente la situazione pure nessun calcio il calcio wire invece se non volete perdere assolutamente precisione sparando senza mirare. Allora come ultime tre classi abbiamo invece le classi da secondo loadout quindi una volta preso il primo queste sono tutte le classi da primo loadout andremo a prendere il secondo loadout. Secondo loadout che conterrà uno tra massima allerta fantasma e tempra ho preparato tutte e tre le classi nel primo caso ho messo una classe col cecchino che è stata la mp 63 con il car con massima allerta quindi abbiamo questa classe che è assolutamente super utile. L'amp è un'ottima pistola veramente forte un ottimo danno l'hanno un po' nerfata è stato un peccato perché veramente era divertentissima da usare però sempre molto valida questa è la classe che sono andato a strutturare sull'amp super mobile super veloce a entrare in mira. Come invece perk cost andiamo a usare l'xm4 insieme alla diamatti. L'xm4 che ho messo come classica arma diciamo da fantasma perché quando prendo il perk di fantasma di solito cosa succede? Che magari rientro in vita da un gulag oppure da una seconda safe prendo l'xm4 e con qualsiasi arma secondaria la vado ad associare quindi che sia un assalto o che sia un cecchino funziona perfettamente perché quest'arma si può accoppiare benissimo sia con un altro assalto sia con un cecchino. E la diamatti che fa il suo da corta distanza fa veramente tanti danni penso sia una delle penso sia ora come ora penso sia la pistola con più danno da corta distanza se non erro quindi è molto 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 forte. Come ultima classe invece andiamo a vedere quella del krig che diciamo la classe un po' da 3 yarder con lmp sempre quindi krig con questa build classica con la ranger in questo caso per avere un po' più di velocità potete sempre pensare di mettere la militare soprattutto per chi gioca da ps. E come secondaria invece la mp e in questo caso sono andato a mettere ricognizione da battaglia e tempra tempra per avere le due piastre quindi in questo caso e non più le classiche 3 però con 75 vita unica. Con questo si chiudono la mia top 10 armi spero vi sia piaciuta spero fatemi sapere quali armi preverete quali vi sono piaciute di più e così via. Vi ringrazio tutti vi consiglio di seguire vi chiedo anzi di seguirmi su twitch e su instagram passate il link in descrizione e d'ora in avanti l'orario di twitch sarà dalle 8 e mezzo fino alle 4 e mezzo di pomeriggio quindi tutti i giorni da martedì fino al venerdì il sabato e domenica sarà un po' variabile. Vi consiglio anche di passare dal gruppo telegram per restare aggiornati su qualsiasi cosa e niente al prossimo video ciao a tutti.